Benvenuti a tutti in questo episodio particolare di news, parliamo di quello che è successo in WWE con il licenziamento di alcuni lottatori. Ovviamente la cosa è ancora in divenire, nel momento in cui sto facendo questo video sono venuto a conoscenza di un altro nome che è stato lasciato a casa dalla federazione di Stanford, che non è compreso in questa lista, lasciata da Sean Ross Sapp di Fightful. Insomma, tante tante cose da dire. Non è stata solo una giornata negativa, è stata una giornata particolare in casa WWE. E quindi cerchiamo di parlarne. Io sono Stefano, una delle voci del progetto dell'Hotovira del Ring e sono anche qui oggi per cercare di dare un contributo a quello che è ciò che succede nel mondo del wrestling, in questo caso nel mondo della WWE. E i licenziati arrivati a un certo punto sono Dolph Ziggler, Shelton Benjamin, Elias M, teni il Dashwood, Mustafa Ali, Rick Box, Aleia e Top Dolla. Vengo a conoscenza, poi non so ancora se è stato confermato, mi sono messo qui per registrare anche, di Dana Brooks e anche di Quincy, Elliot Quincy, una cosa del genere, questo ragazzo che io purtroppo non seguendo tanto la WWE, alcuni non li conosco, ma quasi. Sto riprendendo adesso a seguire un pochino di più il mondo americano, extra o l'elite, ma è un casino stare sempre dietro a tutto, quindi perdonatevi. E' ovviamente un giorno particolare, sono successi tanti giorni di questo tipo in WWE, è una grande compagnia la quale non sempre può mantenere tutte le persone che sono al suo interno, abbiamo visto recentemente licenziate 100 persone abbondanti per questa merge che c'è stata tra la WWE e la UFC, con la formazione del nuovo gruppo TKO, ovviamente ci sono stati dei licenziamenti dietro le quinte, adesso sono arrivati anche quelli di alcune delle superstar che magari avevano trovato nuovamente uno spazio lì, come per esempio Emma che era ritornata da poco e che però non hanno saputo avere quel mordente a prendere così tanto il pubblico o comunque convincere la federazione a rimanere lì. Si parlava già da ieri di Dolph Ziggler fuori, si parlava già da qualche giorno di Elias fuori, sono arrivati tanti tanti nomi, anche quello di Box per esempio, era uscito ieri se non sbaglio, insomma tante situazioni che ci hanno portato a individuare chi poteva essere tra i licenziati, ovviamente fa sempre scalpore vedere queste giornate che sono delle mattanze vere e proprie, anche se dobbiamo essere onesti, quelle porte che si chiudono potrebbero farti trovare davanti a dei portoni che si aprono, e questo è un motivo di incoraggiamento che arriva anche da un lottatore che ha avuto tante sfortune ma che ha saputo davvero ricostruirsi e ricostituirsi. Questo lottatore è ovviamente Matt Cardona che lancia un bel messaggio e dice Ragazzi, so che per molti potrebbe essere l'inizio della fine della carriera, per molti potrebbe essere una mazzata difficile da assorbire, ma ci sono i soldi fuori, ci sono le possibilità fuori, bisogna essere bravi di saperle cogliere, e quindi fatevi il culo e ritornate in pista, questo può darvi tanto. Matt Cardona ha avuto un licenziamento un paio di anni fa che lo ha portato ovviamente a dover rivedere la sua posizione, la sua vita, e lui ha saputo ricostruirsi molto bene, vincendo titoli, portando il suo nome in giro, facendo ottimi match, lavorando con le federazioni giuste, ha davvero portato nuova linfa, la sua carriera, la sua vita, e forse la sua carriera è migliorata anche grazie a tutti questi aspetti, anche lontano dalla major delle major, cioè la WWE, quindi è buono sentir dire da uno come lui che si può vivere comunque anche molto bene in questi casi. Poi non è stata una giornata solo di cattive notizie, c'è una anche molto buona, molto positiva, il gruppo della NBC ha acquistato nuovamente SmackDown, che il venerdì sera andrà quindi in onda sui suoi canali, e quindi è una cosa molto positiva, anche se questo ricevere SmackDown e quattro speciali che verranno prodotti durante l'anno per i prossimi cinque anni potrebbe spostare RAW ed NXT su altri lead, quindi toglierli da USA Network dove approderà ovviamente SmackDown e vediamo, perché addirittura RAW si parla del fatto che potrebbe cambiare anche il giorno di trasmissione, e se dovesse andare in un altro canale potrebbe vedere ridimensionato anche il suo tempo televisivo. Vediamo, perché potrebbero essere grossi cambiamenti e non negativi per forza, quindi vediamo, questa è una cosa da tenere d'occhio perché è davvero molto buona, molto 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 positiva. Invece ovviamente un'altra cosa molto positiva è l'annuncio di Elimination Chamber, che fa ritornare la WWE in Australia, a Perth, e il 24 febbraio ci sarà appunto questo evento in una grande città e in un grande stadio. Cose molto belle all'orizzonte, però una WWE che comunque costruisce tanto anche attraverso TKO. Si parla anche, e lì non sono riuscito a entrare nel dettaglio della possibilità che Vince McMahon venga rimosso dagli suoi ruoli all'interno della WWE in generale, quindi dopo la fuoriuscita di Triple H ci sarebbe anche quella di Vince McMahon e a questo punto la WWE cambierebbe completamente tutto quello che è il suo direttivo principale di quelli che sono stati i capi e creativi che hanno lavorato intorno al mondo della federazione per tanto tempo. Quindi anche lì, logicamente, è un'area di cambiamento importante. Cercheremo di seguirla, cercheremo sempre di parlarvene, tra poche ore andrà anche in onda il nostro programma Spotlight che parla ovviamente di Raw e di SmackDown, quindi non segue le notizie in quanto tali, ma troverà ovviamente più respiro per quanto riguarda ciò che è successo negli show televisivi. Cercheremo ovviamente di tenervi sempre aggiornati con le notizie quanto prima, nel miglior modo e la più grande semplicità possibile. Sono tanti i rumor, sono tante le situazioni che girano intorno al mondo, non solo della WWE, ma in generale cerchiamo veramente di stare belli tranquilli, non succede niente, sono cose che succedono nelle grandi aziende, le abbiamo viste succedere tantissime volte adesso, semplicemente per chi è fuori da lì c'è da rimboccarsi le maniche, per chi è rimasto dentro c'è un po' più di spazio. Ovviamente se ne parla di queste cose nei periodi dei tryout e se ne parla anche, mentre ve ne sto parlando io, con i possibili licenziamenti di tutto l'apparato di NXT, che evidentemente anche lì potrebbe essere un po' sfoltito proprio per i tryout che dovrebbero portare nuove persone, compresa anche Jade Carghi. Bene, per oggi è tutto, spero che abbiate gradito questo tipo di contenuto, fatemi sapere nei commenti, ovviamente cercheremo di portarvi quante più notizie possibili da qui in poi, cercheremo di dare a questo volto particolare anche di newsboard, a quello che è il lato vero del ring, voi dateci i vostri consigli, fateci sapere se stiamo facendo bene e dove possiamo eventualmente migliorare. Grazie di cuore a tutti, io sono Stefano, uno dei volti della tovela del ring, noi ci risentiamo, alla prossima.